Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, vero figlio mio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima era un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità, che è in Cristo Gesù. Signore, solo in Te è il mio bene. Proteggi mio Dio, in Te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei Tu, solo in Te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita. Signore, solo in Te è il mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra. Non potrò vacillare. Signore, solo in Te è il mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla Tua presenza. Dolcezza senza fine alla Tua destra. Signore, solo in Te è il mio bene. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro. Ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Grazie a tutti.